Cristo risorto, buona giornata carissimi amici. Dall'inizio di questa giornata benediciamo il Signore per il dono della Sua parola e perché anche oggi i nostri orecchi potranno udirla, udire la buona notizia dal Vangelo secondo Luca, capitolo 19, versetti 11-28. In quel tempo Gesù disse una parabola perché era vicino a Gerusalemme ed essi pensavano che il Regno di Dio dovesse manifestarsi da un momento all'altro. Disse dunque un uomo di nobile famiglia, partì per un paese lontano per ricevere il titolo di re e poi ritornare. Chiamati dieci dei suoi servi, consegnò loro dieci monete d'oro dicendo «Fatele fruttare fino al mio ritorno». Ma i suoi cittadini lo odiavano e mandarono dietro di lui una delegazione a dire «Non vogliamo che costui venga a regnare su di noi». Dopo aver ricevuto il titolo di re, egli ritornò e fece chiamare quei servi a cui aveva consegnato il denaro per sapere quanto ciascuno avesse guadagnato. Si presentò il primo e disse «Signore, la tua moneta d'oro ne ha fruttate dieci». Gli disse «Bene, servo buono, poiché ti sei mostrato fedele nel poco, ricevi il potere sopra dieci città». Poi si presentò il secondo e disse «Signore, la tua moneta d'oro ne ha fruttate altre cinque». Anche a questo disse «Tu pure sarai a capo di cinque città». Venne poi anche un altro e disse «Signore, ecco, la tua moneta d'oro che ho tenuta, nascosta in un fazzoletto. Avevo paura di te che sei un uomo severo, prendi quello che non hai messo in deposito e mieti quello che non hai seminato». Gli rispose «Dalle tue stesse parole ti giudico, servo malvagio. Sapevi che sono un uomo severo, che prendo quello che non ho messo in deposito e mieto quello che non ho seminato. «Perché allora non hai consegnato il mio denaro a una banca? Al mio ritorno l'avrei riscosso con gli interessi». Disse poi ai presenti «Toglieteli la moneta d'oro e datela a colui che ne ha dieci». Gli risposero «Signore, ne ha già dieci». Io vi dico «A chi ha sarà dato, invece a chi non ha sarà tolto anche quello che ha». «E quei nemici, che non volevano che io diventassi loro re, conduceteli qui e uccideteli davanti a me». Dette queste cose Gesù, camminavo davanti a tutti salendo verso Gerusalemme. Amen. Carissimi, abbiamo letto una lunga parabola in questo capitolo 19 del Vangelo secondo Luca. Una parabola molto particolare detta da Gesù in questo cammino verso Gerusalemme. Tanto che sia il primo versetto, quindi l'undicesimo, sia l'ultimo, il ventottesimo, l'Evangelista ci ricorda che stanno andando verso Gerusalemme. Si sta realizzando il progetto di Dio. Siamo anche noi al termine, le ultime due settimane di questo anno liturgico, in cui ascoltiamo discorsi e anche parabole escatologiche che riguardano la fine dei tempi. E Gesù, da un lato in questa parabola, parlando di questo uomo di nobele famiglia che dovrà ricevere il titolo di re, sta parlando della sua ascesa a Gerusalemme, ma al tempo stesso di coloro che non vogliono che venga Cristo a regnare su di loro, che non hanno accolto il suo regno. E dall'altro aspetto, invece, abbiamo non solo una cerchia di persone che non lo accolgono, ma anche i suoi servitori, i servitori di questo uomo che diventa re, ai quali ha affidato una moneta d'oro a testa. Quindi questi dieci servitori, fatti chiamare da questo uomo, ricevono una moneta d'oro e poi decidono cosa farne. I più scaltri la fanno fruttare, mentre c'è una persona, di cui si parla in questa parabola, che la nasconde e quando torna il padrone, nell'arità. Ecco che allora Gesù dice che questo re, ormai diventato re, questo uomo nobile, ringrazia i servi che hanno fatto fruttare la moneta d'oro, ma invece si irrita con colui che se l'è tenuta per sé, per restituirgliela. Ci sono moltissimi aspetti di cui potremmo parlare oggi, carissimi amici. Ma questo video non finirebbe, durerebbe fino a domani, perché in questa parabola davvero Gesù ci dice molte cose. Io vorrei soffermarmi soltanto su un aspetto, come dico sempre, una piccola gocciolina in un oceano, perché ogni brano della parola di Dio è un oceano per noi. E quello che io vi consegno è solo una piccola gocciolina, solo un piccolo aspetto. E tutti voi di solito anche nei commenti vi dite altri aspetti che vi hanno toccato, colpito. Oggi mi ha colpito personalmente questo aspetto che coloro che hanno fatto fruttare la moneta d'oro hanno avuto la risposta del padrone dicendo, bene servo buono, poiché ti sei mostrato fedele nel poco, ricevi il potere sopra dieci città. Significa che Dio ha dato a ciascuno di noi, come ha dato a questi dieci servi, una moneta d'oro. Ed è la nostra vita. È un dono che noi riceviamo nella nostra vita. Un dono verso il quale essere fedeli. Perché investire questo dono per averne altri Gesù stesso lo ha detto, significa dimostrarsi fedeli nel poco. Ecco quanto è importante nel nostro stile di vita come cristiani, nel nostro stile di vita come credenti, quanto è importante che i nostri doni, che ciò che Dio ha dato a noi, a partire dalla nostra stessa vita, a partire dall'incontro personale con il Signore Gesù, noi possiamo donarli, offrirli agli altri. Entriamo in un'ottica del dono, l'ottica del dare. Quando noi diamo, e quindi qui sarebbe investire nelle banche, quando noi investiamo coi nostri doni, e quindi li diamo agli altri, e siamo fedeli a questo dono che Dio ci ha fatto, e quindi generosi, noi riceviamo la ricompensa e la riceveremo nel Regno dei Cieli, ma anche qui sulla Terra. Quindi carissimi, oggi lo slogan è proprio questo, sii fedele nel poco. Perché noi molte volte guardiamo a ciò che non abbiamo, guardiamo a ciò che ci manca, a ciò che vorremmo, non siamo mai soddisfatti, vorremmo sempre qualcosa di più. In realtà il Signore ha dato a ciascuno di noi una moneta d'oro, in tante forme, forme personale. Quanto è importante essere fedeli al dono che Dio ci ha dato. Allora il mio invito, carissimi amici, oggi è di invocare lo Spirito Santo, perché venga, e come abbiamo visto anche ieri, l'altro ieri, apra i nostri occhi e ci faccia vedere qual è il dono, ci faccia donare agli altri questi doni, ci faccia essere generosi, come il Padre è stato generoso donandoci il Figlio, e come Gesù stesso è stato generoso verso di noi e ha offerto la sua vita per noi. Quindi anche noi, nelle cose che abbiamo, chiediamo allo Spirito Santo, Spirito Santo illuminami, donami di comprendere dove devo essere fedele e che cosa devo dare agli altri. Quindi, cari amici, vi invito. Questa parabola mettiamola in pratica invocando lo Spirito Santo e allora diciamoli vieni Spirito Santo, vieni o Spirito nella nostra vita. Spirito Santo, abbiamo bisogno di Te, perché Tu possa aprire i nostri occhi, aprire il nostro cuore nel riconoscere questa moneta d'oro che ci è stata data dall'alto. Spirito Santo, crea in me un cuore generoso. Spirito Santo, crea in me un cuore capace di donarsi agli altri, una vita disponibile ad essere trasformata dalla parola di Dio. Spirito Santo, vieni e concedimi di essere generoso in tutte le mie vie, nella mia casa, nei miei aspetti affettivi, nella mia vita personale e nel mio lavoro. Donami di essere uno strumento nelle Tue mani, ma soprattutto insegnami la fedeltà nel poco, la fedeltà alla preghiera, la fedeltà all'amicizia, la fedeltà alla generosità. E grazie soprattutto, Spirito Santo, per questa moneta d'oro che anche io ho ricevuto. A te l'onore e la gloria, Gesù, nei secoli dei secoli. Amen. Amici carissimi, benediciamo il Signore e chiediamoli che oggi venga e ci doni di vedere il suo dono e di farlo moltiplicare cento volte tanto, perché Dio è con noi e ci donerà questa scaltrezza. Grazie che mi avete accolto. Un caro saluto e un abbraccio dalla Coinonia Giovanni Battista o Ase di Biella. Ciao, a domani. Il Signore è mia parte di eredità e mio calice. Nelle Tue mani è la mia vita. Io pongo sempre davanti a me il Signore. Sta alla mia destra, non potrò vacillare. Protegimi, oh Dio, in Te mi rifugio. Per questo gioisce il mio cuore ed esulta la mia anima. anche il mio corpo riposa al sicuro perché non abbandonerai la mia vita negli inferi né lascerai che il tuo fedele che il tuo fedele... ...